E' cominciato presto stamattina il movimento nel nostro lungomare perché questa edizione che era tredicesima era più attesa perché noi veniamo da due anni di pandemia, quindi per due anni il primo maggio non è stato potuto festeggiare, quindi c'era anche una grande attesa da parte della cittadinanza e non solo per questo grande evento che monopolizza tutto il lungomare da nord a sud con giochi, attrazioni, cibarie varie eccetera eccetera eccetera, quindi siamo molto soddisfatti nonostante non ci sia il sole ma il tempo regge e la gente ha voglia di uscire e quindi è bello rivedere il nostro lungomare ancora una volta, bello, carico e partecipe di festeggiare questa grande festa del primo maggio a Porto Sant'Empirio. Guarda, devo essere sincera, io finora ho lavorato al primo maggio perché dopo due anni di fermo ripartire era stato comunque non semplice, quindi rimettere in moto una macchina come questa è molto impegnativo, chiaro c'è la collega che sta pensando al cartellone estivo quindi ci siamo anche un po' divisi i compiti e anche noi come sempre faremo la nostra estate, quindi questa è quella di oggi era il banco di prova, era la data zero per vedere come la città rispondeva, d'altronde oggi è anche il giorno del libera tutti, senza mascherine, senza tutte quelle restrizioni che purtroppo ci hanno accompagnato per due anni e che ovviamente ha cambiato anche un po' lo stato delle persone, della socialità, dell'aggregazione, quindi non è poi così scontato che dopo un periodo come questo si riesca a tornare a una normalità come quella che vediamo oggi, quindi decisamente contenta. Stamattina il colpo d'occhio è bellissimo, sicuramente non era scontato perché dopo due anni di stop tutto questo stamattina assolutamente non era scontato, per cui siamo contentissimi, felicissimi, contenti che ci siano persone che godranno di questa giornata, se non metterle sicuramente parlando, bellissima, ma sicuramente attrattiva dal punto di vista delle cose da fare, delle cose da vedere e contenti anche per tutti coloro che appunto partecipando anche alla fiera potranno lavorare e quindi ecco anche un ritorno economico per chi partecipa oggi con noi a questo primo maggio a Porto Sant'Elpidio. Anche quest'anno appunto abbiamo voluto riorganizzare l'anteprima, quindi ieri sera in piazza Garibaldi si è svolto un concerto, votato sicuramente all'allegria, ieri sera abbiamo ballato in piazza con un gruppo di sole donne che comunque ci hanno fatto divertire con delle cover che sono andate dagli anni 80 ai giorni nostri, quindi è stata veramente una bellissima serata. Come tiene il polso dei suoi cittadini, assessore? Quando li incontra, cosa vi dicono? Che erano assolutamente, insomma volevano che assolutamente questo giorno si ripetesse, in quest'anno che iniziamo a ripartire appunto dopo due anni di stop, quindi tantissima felicità anche da parte loro e quindi con orgoglio appunto li ringraziamo anche per la partecipazione, perché oggi ne abbiamo già incontrati tantissimi, oltre ai turisti che naturalmente arrivano sia dalle regioni limitrofe ma anche dalle città limitrofe, per cui ecco siamo contenti anche di vederli oggi qui con noi presenti a questa manifestazione. Insieme al 25 aprile, il primo maggio rappresenta un pochino il banco di prova per la prossima stagione estiva e molti vengono ad affacciarsi, fare il weekend e poi scegliere se confermare il soggiorno estivo, è stato così anche e soprattutto per quest'anno? Sì, diciamo che la promozione è stata molto importante, ci abbiamo puntato, per cui ecco i primi riscontri già li vediamo anche oggi. Un'estate assolutamente piena, ho visto un calendario che si sta formando mano a mano, ho visto delle date anche nel mese di maggio, quindi stiamo provando a destagionalizzare. Sì, appunto cerchiamo di allungare il periodo, non solo più luglio e agosto che sono i mesi votati tradizionalmente al turismo, ma cerchiamo appunto di prendere dei mesi precedenti e successivi a quelli che sono i mesi principali, diciamo. Per vedere tutto il calendario degli eventi basta frequentare il social? Sì, basta frequentare il social, ma dire anche che comunque a giorni usciremo magari con una conferenza stampa in cui illustreremo proprio tutto il programma. Per noi il primo maggio è un lancio verso quella che deve e sarà sicuramente una bellissima stagione estiva. Ormai nonostante le difficoltà che abbiamo avuto per la pandemia abbiamo capito che il nostro territorio è molto apprezzato e quindi anche la nostra città. Vogliamo rilanciare su questo anche perché vediamo come sta accadendo nella giornata di oggi che quando si organizza la risposta della gente è veramente bella, positiva e piacevole. Quest'anno per noi è un anno particolare, i 70 anni della città di Porto Sant'Elpidio e non potevamo non avere un grandissimo evento come quello che avverrà il 20 agosto ospitando le frecce tricolori qui in città. Sarà poi dopo anche l'occasione per riproporre dei bellissimi momenti storici come ad esempio quello che è il ritorno del palio del mare o il beat soccer nel mese di luglio e tante altre iniziative che ormai i cittadini hanno imparato a conoscere e che animeranno ancora una volta l'estate elpidiense. Abbiamo sempre avuto un po' la matrice sportiva che ci ha caratterizzato il fatto di utilizzare queste che sono le strutture, le infrastrutture legate al lungomare dove ad esempio a fine maggio avremo delle bellissime manifestazioni ciclistiche che portano centinaia di persone qui in città. Quindi sicuramente la matrice sportiva è una delle matrici sulle quali lavoriamo più di tutti e poi punteremo anche su questo discorso dei 70 anni diciamo che non si ospitano tutti i giorni le frecce tricolori e è la prima volta per la città di Porto Sant'Elpidio e sappiamo che questo è un evento che normalmente porta decine di migliaia di persone. Noi abbiamo sempre lavorato in questa amministrazione sotto due fronti il primo era quello di una riqualificazione generale del centro cittadino e come vedete questo è qualcosa che ormai è diventato realtà che comunque si completerà nei prossimi mesi o nei prossimi anni ma in generale anche un miglioramento complessivo della qualità della vita che poi si sposa da una parte con quello che è l'incoming e quindi il modo migliore per accogliere i turisti ma poi dopo è anche la vita quotidiana dei nostri cittadini. Il fatto di avere un ampliamento di le piste ciclabili in molte zone della nostra città è sì un ottimo volano per il turismo ma sicuramente è anche un ottimo modo per far vivere molto meglio i nostri cittadini e poi una riqualificazione generale che sta riguardando un po' strade, asfalti, marciapie le cose che le città oggi hanno bisogno. Con la presidente della Proloco di Porto Sant'Elpidio Daniela Pergentili insomma si riparte Daniela? Sì, è un inizio, cerchiamo di ripartire Dopo due anni di fermo questa è la prima volta che iniziamo alla ripartenza La Proloco è una grande famiglia siamo in molti, dai più piccoli ai più vecchi e cerco di tenerla unita e di poter fare manifestazioni nel limite possibile insomma La Proloco è una grande famiglia Grazie a tutti